Mangiare la frutta dopo i pasti fa male? Prima di continuare ti invito a lasciare un like e ad iscriverti al mio canale per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Dipende. Come sempre è molto soggettivo. In giro c'è molta disinformazione sull'argomento, in realtà purtroppo c'è molta disinformazione su tante cose. Mangiare frutta dopo i pasti di per sé non è un problema, a meno che non abbiamo un problema. E' molto soggettivo. Ci sono alcune persone che mangiando la frutta dopo i pasti gonfiano tanto, quindi hanno dei problemi. Altre persone invece hanno problemi mangiando la frutta lontano dai pasti, quindi è un qualcosa di assolutamente soggettivo. Io per esempio non ho problemi in nessuno dei due modi. Posso mangiarla sia subito dopo i pasti, sia come spuntino lontano dai pasti principali e non mi dà fastidio in nessuno dei due modi. Però, ecco appunto, è un qualcosa di assolutamente soggettivo. Non c'è una regola che vada bene per tutti e, come nella stragrande maggioranza dei casi, è se va valutato sempre caso per caso. Bene, io mi fermo qui. Un caro saluto e mi raccomando sempre carichi e motivati! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!